Ben trovati al meteo. L'anticiclone africano che in questi giorni ha portato un'ondata di caldo, nel weekend si indebolisce. L'estate fa un passo indietro e tornano così piogge e rovesci. Vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 5 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, anche se a tratti il cielo tenderà a coprirsi localmente anche con molte nubi. Nel corso del pomeriggio qualche temporale sulle zone montane e pedemontane. Entrosera saranno possibili degli acquazzoni anche sulle pianure circostanti. Le temperature poi subiranno contenute variazioni di carattere locale, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, tanto sole inizialmente, ma anche in questo caso a seguire avremo piogge sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, vedete, alternate a momenti un po' più asciutti. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.